Nessun dubbio, il nuovo Ruggi d'Aragona nascerà nell'area dell'ex Fimmatica e sarà a disposizione dei pazienti salernitani di qui a qualche anno. Ne è convinto l'assessore Mimmo De Maio che a distanza di qualche giorno dalla conferenza stampa di Giampaolo Lambiase e Margaret Cittadino fuga i dubbi avanzati da sinistra e assicura che l'ospedale, così come annunciato dal governatore Vincenzo De Luca, si farà. La Regione ha avviato già una procedura attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa perché ci sono le risorse disponibili per la realizzazione della nuova infrastruttura sanitaria. Siamo in una fase avanzatissima, nei prossimi giorni sarà emanato il bando per la progettazione esecutiva del nuovo ospedale di Salerno. È chiaro, per fare questo c'è bisogno delle risorse, altrimenti i banti non possono essere emanati. Molto probabilmente anche qui si tratta di fare un po' di polemiche senza conoscere effettivamente quale è il lavoro, le attività e le procedure che fino ad oggi sono state messe in campo, sia dall'amministrazione comunale che chiaramente dalla Regione. Il consigliere comunale di opposizione e l'esponente della CGL Sanità avevano avanzate non poche perplessità anche sulla reale utilità dell'iniziativa. Il rischio denunciato dall'Ambiase era, fra gli altri, quello dell'ennesima colata di cemento sulla città e di arrivare dunque a realizzare una cattedrale nel deserto. L'ennesima di Salerno era stato l'atto d'accusa. Dal sindacato invece era arrivata la richiesta di un più incisivo investimento per i temi urgenti della sanità, dal personale all'efficientamento delle strutture esistenti, vecchie e spesso inadeguate, prima ancora di realizzarne di nuove che non sono la priorità per i cittadini e i pazienti salernitani.